Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione di riconoscimento delle eccellenze italiane per Antenomasia. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale tributario, il premio viene assegnato a Francesco Colagliani dello studio legale, Francesco Colagliani per la riconosciuta specializzazione accademica in materia di diritto penale tributario, un'allevata preparazione e la leadership con la quale gestisce il suo studio legale. Il professore Francesco Colagliani ha dimostrato di essere un profondo conoscitore della materia fiscale attraverso le sue efficaci strategie difensive. Buonasera, professore complimenti, complimenti davvero. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale tributario. A Elephant Awards 2017 l'avvocato Francesco Colagliani ha ottenuto un importante riconoscimento individuale come avvocato dell'anno, boutique di eccellenza nell'ambito del diritto penale tributario. Siamo in presenza dell'avvocato Colagliani al quale chiedo un commento per questo importante riconoscimento. Anzitutto vi ringrazio, sono molto contento, lusingato di questo riconoscimento. Effettivamente io mi occupo di diritto penale tributario fin dai tempi dell'università per cui è un riconoscimento più che mai gradito. Come nasce questo suo interesse per il diritto penale tributario? Un po' lo ha già accennato, no? Sì, si tratta effettivamente di una materia particolare. Anzitutto è nato sui banchi dell'università. Il primo amore è stato per il diritto penale, penale generale, la filosofia del diritto penale. Però subito dopo aver dato l'esame di penale c'è stato l'esame di tributario ed è un secondo amore per cui ho cercato di conciliare le due esigenze. La fortuna ha voluto che andando a chiedere la tesi al professor romano all'università cattolica, egli stesso mi diede come argomento la frode fiscale sulla legge allora cosiddetta manetta agli evasori, la legge 516 del 1982. Così potete anche individuare la mia età, io mi laureai nell'83, la legge era entrata in vigore da qualche anno, c'erano pochissimi commenti sul punto e la mia tesi effettivamente fu innovativa e venne pubblicata. Quindi da allora poi anche professionalmente mi sono sempre occupato di questa materia e come ricerca ho sempre cercato di coltivare scientificamente anche da questo punto di vista l'interesse per la materia. Secondo lei quali sono attualmente le maggiori criticità nel diritto penale tributario? Le criticità purtroppo sono tante, si può fare un cenno perché attualissimo sull'applicazione della normativa antimafia anche per fatti di evasione fiscale, però chiuderei la parentesi perché porterebbe poi un argomento anche politico fra virgolette diciamo così. La criticità più evidente per tutti e quindi unanimamente riconosciuta e parlo di professionisti, magistrati, operatori del diritto in genere è quella del doppio binario, si tratta, cerco di spiegarlo ovviamente in linguaggio più semplice possibile, si tratta di un istituto secondo cui il processimento tributario e il processo penale vanno avanti per conto proprio senza che i giudici possano comunicare fra di loro pur essendoci molte commistioni a cominciare dalle prove e da alcuni meccanismi procedurali e per cui questo doppio binario appunto crea notevole difficoltà e poi sta all'abilità del difensore e alla saggezza del pubblico ministero cercare di come dire contemperare e in qualche modo far comunicare i due istituti, è un problema che rischia di essere risolto in maniera coattiva prepotentemente dal legislatore europeo ma sempre solo per ciò che riguarda i tributi armonizzati, gli altri tributi poi avrebbero delle regole completamente diverse da quelle dei tributi armonizzati, in particolare c'è una direttiva di protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea che dovrà essere recepita dal legislatore italiano entro fine 2018 e poi c'è anche tutta la giurisprudenza dell'Unione europea sulla doppia punibilità perché il problema di questo doppio binario dei due processi è il rischio di dare una doppia punizione per lo stesso fatto che è evidentemente illegittimo per tutti gli ordinamenti civili. Può dirci qualcosa sull'associazione di cui lei è vicepresidente, il centro di diritto penale tributario? Oh sì, allora il centro di diritto penale tributario fu fondato un po' dal padre della materia che è il professor Caraccioli a metà degli anni 90, è un'associazione di studio che accoglie appassionati di diversa provenienza professionale, quindi avvocati, commercialisti, funzionari dell'agenzia delle entrate, ufficiali della guardia di finanza che sono appunto accomunati da questa passione, quindi l'aspetto interessante che non è un'associazione settoriale in cui è più facile lo scambio di diverse vedute e il confronto fra diversi punti di vista, attualmente conta circa 150 iscritti, noi organizziamo dei convegni in tutta Italia, io sono il referente per la Lombardia nonché il vicepresidente nazionale e quindi l'attività è molto continua, appassionante, si cerca evidentemente di seguire in continuazione le novelle legislative e giurisprudenziali che si moltiplicano giorno per giorno.